Pagnoncelli che ha un sondaggio fatto proprio oggi e sulle cose che succedevano. Cosa abbiamo domandato e cosa hanno risposto gli italiani? Beh, innanzitutto le interviste sono concluse alle 21, quindi poco prima che ci fosse l'esito del voto al Senato, il voto di fiducia. Allora, innanzitutto abbiamo chiesto se hanno seguito le dichiarazioni del Presidente Conte e di Matteo Renzi di questi giorni e che cosa ne pensano. Lo vediamo col cartello 1, vedete riguardo al Presidente Conte il campione si divide in tre gruppi di quasi uguale numerosità. Un terzo ritiene che non abbiano convinto le motivazioni del Presidente Conte, 32% al contrario le ha ritenute convincenti, ma il 34% non le ha seguite o non è in grado di esprimere un giudizio. Con il cartello successivo vediamo quelle che sono state invece le dichiarazioni del Presidente Italia Viva Matteo Renzi, 52% dichiara di non essere stato convinto dalle sue dichiarazioni, 12% al contrario lo è stato, ma anche qui 36% non ha seguito. Poi abbiamo voluto chiedere, ma con l'uscita dalla maggioranza di Italia Viva, quale sarà il destino, il futuro dell'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle? Lo vediamo con il cartello 3 e vedete che qui il campione si divide praticamente a metà, il 36% ritiene che l'alleanza sia finita con l'uscita di scena di Italia Viva. Il 36% invece ritiene che sia un'opportunità di consolidare, di rafforzare questa alleanza, andrà avanti meglio di prima, ma anche qui il 28% non si esprime. Poi abbiamo chiesto ma cosa sarebbe meglio per il nostro Paese in prospettiva? Lo vediamo con il cartello 4, il 40% ritiene che sia opportuno che continui l'esperienza del governo guidato da Giuseppe Conte, 40%, 31% al contrario ritiene che si debba sciogliere il Parlamento e andare al voto, il 14% pensa a un nuovo governo guidato da un altro Presidente del Consiglio e un 15% è un po' disorientato, non si sa esprimere. E poi ancora abbiamo chiesto ma lei sarebbe più tranquillo con un'Italia guidata da Conte e Zingaretti o da Meloni e Salvini? Guardiamo le risposte con il cartello 5, vedete prevalgono sia pure di poco, Conte e Zingaretti 42%, Meloni e Salvini 38%, quindi un Paese diviso da questo punto di vista e un 20% dice nessuno di loro o non indica. Ultima domanda, abbiamo chiesto appunto con la fiducia al governo Conte se dovesse essere confermata con il voto al Senato, quanto potrà durare il governo Conte? Lo vediamo con il cartello 6 e vedete che appunto un 10% ritiene che possa durare ancora pochi giorni, 36% qualche mese, un terzo ritiene viceversa che possa durare fino alla fine legislatura, 21% anche qui si dichiara disorientato. Grazie Pagnoncelli, resta con noi. Grazie a tutti.